Sono 539, ieri erano stati 566, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 25.171 tamponi processati tra molecolari e test rapidi, con un tasso di positività pari al 2,1%. La situazione nell'isola si mantiene dunque pressoché stazionaria, in lieve rialzo rispetto alle ultime settimane, ma ancora assolutamente sotto controllo. Le vittime del virus oggi sono 17 e portano il totale dall'inizio della pandemia a 4.187. Significativo il numero dei guariti sono stati 1.222 nelle ultime 24 ore, ma buone notizie continuano ad arrivare ancora anche dagli ospedali, dove continuano a diminuire i pazienti ricoverati. Sono 696 quelli in regime ordinario, 30 in meno rispetto a ieri, e 117 in terapia intensiva, 6 in meno. La Regione è dodicesima nel contagio giornaliero di oggi. Il numero degli attuali positivi è 25.129, con un decremento di 600 casi rispetto a ieri. Riguardo alla distribuzione dei nuovi casi fra le varie province, Palermo 190, Catania 150, Messina 36, Siracusa 47, Trapani 12, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 44, Enna 10. Dunque una curva dei contagi da coronavirus che fortunatamente in Sicilia si mantiene stabile, mentre a livello nazionale crescono i nuovi casi e la preoccupazione per le varianti.